Ciao, sono Giovanni. Ciao, sono Chiara. Ciao, sono Alessia. Ciao, sono Neandro e faccio il tutor in aula per circa 60 studenti da un po' di anni. L'anno scorso ho fatto un'esperienza di tutorship peer-to-peer con una ragazza del mio corso, aiutandola a superare l'ultimo esame che le mancava. Lo scorso semestre ho effettuato un'esperienza di tutorship peer-to-peer con un ragazzo del mio stesso corso su due discipline che avevo già seguito. Ho fatto diverse esperienze didattiche e anche esperienze di tutorato, in particolare sono stata tutor in aula per un corso di laboratorio con circa una novantina di studenti. La cosa che mi ha reso più orgogliosa è stata riuscire a ridare la fiducia a una persona che per una serie di motivi l'aveva persa e quindi aiutarla a completare il suo percorso. Un aspetto molto piacevole di fare didattica, poi in particolare a livello di tutorato, visto il contatto diretto che si ha, è quello di trovare delle modalità di ascolto. La cosa bella dell'insegnare poi è l'insegnare, aprire delle porte di conoscenza verso dei ragazzi e vedere la gioia nei loro occhi, nello scoprire cose nuove e nell'apprendere pezzi nuovi di conoscenza. È stato interessante perché in certe occasioni mi sono riuscito a mettere nei panni del docente e quindi a rivalutare delle critiche che avevo fatto in precedenza a degli insegnanti perché obiettivamente è un ruolo impegnativo, è un ruolo difficile. Il bello di avere un unico studente di fronte è stato quello di potersi tarare esclusivamente sulle sue esigenze, però è stata una bella esperienza quella della docenza. Grazie.